Dai 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 finalmente siamo qui a promuovere il nostro nuovo film comico Non aprite quella sporta Abbiamo fatto una visione per pochi, una visione privata ed ecco uno degli spettatori che lo ha visto in anteprima Prego venga venga Eccoci qua, buonasera a tutti ai telespettatori del Telefano Vi saluto a tutti, molto piacere Io mi chiamo Mirko Ioni Però ecco se sta brutto che non se può dire Mi potete chiamare Ioni Mirko Però il concetto ha capito No vabbè, è uno il nome che ha Capito, mi chiamo Mirko Ioni Quello è Niente, volevo dire, allora il film l'ho visto Ragazzi veramente questa volta avete fatto un colpaccio È il film della vostra vita veramente Funziona tutto La regia, la storia, la musica Te proprio, hai capito, te prendi Veramente è un film sensazionale Ma dove l'avete girato? L'elicottero La scena con l'elicottero che a terra in te l'acqua Ma quello, con le barche che scendete in te la spiaggia coi mitra A salire la spiaggia Do bimbi bimbi tutti i proietti Ma dove l'avete girata? A Ponte Sasso, quella? Dove l'avete fatta? Non c'è nessuna scena Con i proietti, ta 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 tutta la spiaggia Non c'è nessuna scena con l'elicottero con i mitra in spiaggia Che film ha visto lei? Ma non è il film, non è cosa, salvate il soldato coso Salvate il, come si chiama il soldato, salvate il, salvate il soldato coso Ma no, non aprite quella sporta è il film Che film ha visto? Ha visto un altro film Ho sbagliato allora Ma dove l'avete mandato? Non l'ho visto io sto Non aprite Jeffrey Sì? Sono Rosa della Cecca Sì signora, buonasera Quello ha visto il film sbagliato Il nuovo film del San Costanzo So Si chiama Non aprite quella sporta Brava, lo dica, forte Dica piuttosto lei, quando è che si può vedere sto film? Ormai ci siamo, ormai ci siamo Perché tra poco è giovedì 16 alle ore 21 C'è la prima al Politeama di Fano Di che mese? Adesso febbraio È giovedì grasso È giovedì grasso Allora porto le castagnole, va bene? Per tutti Brava, così maniamo tutti Aspetti perché poi c'è anche il venerdì 17 febbraio Alle ore 21 sempre a Politeama Sabato 18 invece a Pesaro al Teatro Sperimentale Doppia proiezione, 19 e 15 e 21 e 15 C'è la Pesaro più grossa, è vero? Doppia, doppia Ma la settimana dopo Sabato 25 alle ore 21 sempre al Politeama di Fano E domenica invece 26 febbraio E alle ore 17 il pomeriggio Alle 17, bene Così porto tutte clevecchie, ma lì del paese Ecco perché loro la sera dormono Dai, bene Vi aspettiamo numerosi Io non vi voglio disturbare adesso questo siparietto Però andate a vedere pure Salvate il soldato coso Che è veramente un bel film A me è quello dopo Che sparano tutte in girata metà urina Ma no, adesso stiamo promuovendo il nostro Non aprite quella sporta Non è che uno dice vada a vedere anche l'altro E' bello, è più bello il nostro Fa più ridere tanto Fate come veppare Andate a vedere il film che veppare E no, è il nostro Probabilmente il nostro Non è che uno dice andate a vedere l'altro E non aprite quella sporta Non aprite sta porta La sporta Aprite sta porta Vi aspettiamo Ciao belli, ciao ciao 25, 26, 27, 27, 28 Il nostro sito è un sacco di giorni Il nostro sito Sancostasciocio.com Tutte le date e i giorni Via, va aspettando E che uno Cioè sto promuovendo Ma no, promuoviamo il film nostro Lei di promuovendo Grazie mille